Era un'opportunità che non mi potevo perdere a questa età, una possibilità di un'esperienza in Serie B che non avevo mai avuto, in quanto in 12 anni, come già detto, ho fatto solo Serie D e gli ultimi sei anni di Lega Pro e Lega Pro Unica. Quindi era un'opportunità che non mi potevo far scappare e sono qua con l'entusiasmo di un ragazzino per vivere al meglio questa esperienza. Beh, diciamo che penso che negli ultimi anni di aver dimostrato nel Lega Pro di essere una persona e un portiere affidabile. Quindi credo che per ricoprire il ruolo che poi andrò a ricoprire quest'anno alle spalle di Frattali, penso di essere un profilo giusto. Beh, effettivamente non sono più un ragazzino, ho 31 anni, ho accumulato tanta esperienza perché ho girato tanti campi, Lega Pro ha fatto tanti anni, è un campionato comunque difficile che ti prepara alla Serie B e sono convinto di avere l'esperienza giusta, un portiere matura in questa età, dai 29 anni fino ai 33-34, è nel pieno delle sue qualità secondo me, anche e soprattutto mentali, capacità di vivere la settimana, la settimana tipo e la domenica se si dovesse essere chiamati in causa.